Torna all'antico il Teatro Dialettale al Maruccino di Chieti. Non più un semplice cartellone ma una vera e propria rassegna con la premiazione di attori e spettacoli divisi per categoria. La rassegna del Premio Maruccino 2016 si riallaccia a quella introdotta nel 1995 e che fu intitolata a partire dal 1999 a Silvana Baroni Ricciardi. Il cartellone della rassegna del Teatro Dialettale Premio Maruccino 2016 curato da Maria Laura Di Petta in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori Fita Abruzzo vedrà la prima serata affidata allo spettacolo stasera Eduardo della compagnia di Lanciano gli amici della ribalta e per l'occasione tornerà a calcare le tavole del palcoscenico il sindaco di Lanciano Mario Pupillo. Sono le compagnie che rappresenteranno delle commedie che sono di quattro regioni e poi rappresenteranno delle commedie inedite che sono commedie che diciamo brillante sempre comiche così che il pubblico è quello che vuole diciamo vuole divertirsi quando viene al teatro e poi ci sarà il trofeo Fita che saranno dei premi che il primo trofeo Fita Abruzzo che saranno dei premi che verranno dato alle compagnie agli attori. In totale saranno otto le serate sempre di venerdì alle ore 21 a partire dal 29 di gennaio. Il teatro marrucino della città di Chieti della regione Abruzzo deve offrire tutti i generi per accontentare tutte le fasce di pubblico. Abbiamo appena inaugurato con la stagione di prosa abbiamo fatto due sold out speriamo di continuare a riempire il teatro in tutte le sue forme per cui il dialettare è una parte importantissima. Per quanto riguarda invece il teatro marrucino questa è un po' la stagione del rilancio del teatro? Diciamo che è stato un anno molto difficile questo passato, ci sono state le elezioni, c'è stata una crisi generale che ci ha fatto stare in sofferenza però cerchiamo di resistere e rilanciare andando avanti nel lavoro.